Io sono Giovanni Zurlo, sono un docente di Skill Lab e oggi sto tenendo un corso sul Fault Tree Analysis, che è una tecnica di analisi dei guasti complementare alla tecnica FMEA, Failure Model and Effect Analysis, e a differenza di quest'ultima è applicabile anche a sistemi complessi. Lo scopo di questa analisi è quello di individuare quali concatenazioni di eventi di guasto possono sfociare in un guasto complessivo del sistema con delle conseguenze che spesso sono anche relative alla sicurezza. Il corso è di un giorno e scopo di questo corso è di mettere i partecipanti in condizioni di impostare delle analisi di questo tipo che nel settore dell'automotive probabilmente diventeranno maggiormente richieste anche perché la nuova norma cita è questa tecnica di analisi e quindi questo farà presupporre una estensione della sua applicazione nel settore.